Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che onestamente mi ha spezzato il cuore. Perché oggi parliamo di una ragazza che voleva solo essere felice, voleva solo avere una famiglia. Questi sono i desideri di Giulia Galliotto, che nasce nel 1978 a Modena. La famiglia si trasferisce a Pigneto di Prignano, in provincia di Modena. Giulia ha 10 anni e sua madre, che di nome fa Giovanna, è una maestra delle elementari e tra le sue alunne c'è anche sua figlia, Giulia. Il papà di Giulia invece si chiama Giuliano. Giulia vive in un ottimo ambiente, c'è armonia familiare, va d'accordo con tutti, anche con sua sorella maggiore. Elena, nel periodo dell'adolescenza la ragazza inizia a frequentare la parrocchia di Pigneto di Prignano. Passano gli anni ed è in effetti in questo paesino che Giulia cresce. E proprio nella parrocchia di Pigneto di Prignano incontra Marco. Lei ha 20 anni, lui 24. Tra i due è Marco a fare il primo passo, chiede a Giulia di uscire e poi lei chiede di diventare la sua fidanzata. Giulia però ha dei dubbi e, come già vi ho detto, ha una famiglia molto unita. Quindi va a casa e prima si confida con sua mamma Giovanna e poi con sua sorella Elena. Quest'ultima ci rimane malissimo, non vede affatto di buon occhio Marco, non gli è mai piaciuto. Dopo il liceo Giulia si iscrive alla facoltà di psicologia di Parma, dove conosce Cinzia, la sua migliore amica. Cinzia descrive Giulia come una persona priva di pregiudizi. Giulia tenta sempre di andare oltre all'apparenza. Giulia cerca la sostanza. Nel 2003 si laurea in psicologia. Ha 25 anni. E accanto a lei c'è il suo fidanzato Marco, con cui sta insieme da 5 anni. Marco nasce prematuro di un paio di mesi, quindi resta in incubatrice. È il secondo di tre figli e vive con la sua famiglia in una frazione di Sassuolo. Quando Marco ha 10 anni, sua madre si ammala del linfoma di Hodgkin, sottoponendosi anche a delle chimioterapie. Marco ricorda la sua infanzia e la sua adolescenza serene, scotomizzando la grave malattia della madre, di cui in effetti racconta particolari piuttosto duri senza alcun problema, come se non avesse impatto sulla sua vita. L'ambiente familiare viene descritto in termini molto positivi, senza litigio o contrasti. La madre di Marco ha un carattere forte e le decisioni le prende lei, mentre suo padre è molto più tranquillo e lascia fare alla moglie, anche nei rapporti con i figli. Nonostante questo c'è comunque confidenza e ha un grande senso di famiglia. La famiglia di Giulia è cattolica, così come quella di Marco. Di conseguenza entrambi frequentano la chiesa e vanno a messa. Marco di lavoro fa il perito elettronico, ma il suo grande hobby è la pallavolo, sport che pratica da circa 15 anni. Gioca due o tre volte alla settimana in una squadra a livello agonistico, ma di bassa categoria. È molto chiuso Marco, ha un gruppo storico di amici con cui si frequenta regolarmente, ma non si lascia andare a confidenze. Parla più che altro con i suoi familiari. È un ragazzo molto competitivo ed è un maniaco del controllo. L'immagine che Marco dà di sé è essenziale per lui. Vuole apparire come un bravo ragazzo, è un gran lavoratore. E per lui è essenziale preservare questa figura. Non deve esserci neanche un dubbio, un mormorio, un pettegolezzo su di lui. Agli occhi del prossimo deve sempre dimostrarsi perfetto. Giulia invece è esattamente l'opposto, è una ragazza aperta, solare, disponibile e sempre cordiale. E in effetti agli amici di Giulia non convince affatto Marco. È così rigido, disciplinato. Sembra che la disciplina a cui lo ha educato lo sport non gli permetta di avere un solo cedimento o di perdonarsi un errore. Marco è severo, con sé stesso e con gli altri, e difficilmente esce dagli schemi. Giulia e Marco in realtà alle famiglie e agli amici tengono ben nascosti quelli che sono i loro problemi di coppia. Tanto che, nonostante le profonde differenze caratteriali, a tutti sembrano una coppia perfetta. La perfezione. È questa la vera ossessione di Marco? Dimostrare di essere un bravo ragazzo, un buon lavoratore, un bravo compagno. Dopo i primi sei anni di fidanzamento però, tra i due le cose non vanno poi così bene. Arriva una crisi così profonda che porta Giulia ad avvicinarsi ad un altro uomo. Poi però capisce di aver sbagliato, se ne pente e torna da Marco. Gli scrive anche un biglietto per ribadirgli il suo amore, ma soprattutto per chiedergli scusa. Non sono stata sincera, non ho motivo di esistere, scrive Giulia. Si sente male per essersi allontanata da Marco, per aver tradito la sua fiducia. Arriva il 2004 e dopo il periodo di crisi il rapporto tra i due pare migliorare. Marco perdona Giulia e i due tornano insieme. Giulia peraltro, dopo una serie di lavori precari, viene assunti in banca per un contratto a tempo indeterminato. È generosa, è una persona aperta, è espansiva. Non è difficile avere una conversazione con lei inoltre, è sempre disponibile a corrispondere ai bisogni degli altri. Questo la rende agli occhi dei suoi amici perfetta. E Marco questa cosa la sottolinea con una certa invidia. In questo periodo Marco ha già iniziato i lavori di ristrutturazione per la casa matrimoniale da almeno un anno. Ma in data 5 giugno 2004, Giulia appare confusa, ha serie dubbi sul futuro e quindi scrive una lettera a Marco. Giulia scrive Ho una grande paura del domani. Se guardo il nostro futuro, beh, forse sono un'illusa, ma vedo una vita assieme. Ho sempre desiderato crearmi una famiglia. La tappa si è avvicinata. Mi fa paura. Mi sembra ieri quando mi hai parlato del fienile della casa che tuo padre aveva a casa Pifferi. Quando mi hai chiesto cosa ne pensavo di quella zona. Da quel giorno sono successe molte cose. Ma io non mi sono fermata a riflettere, ad analizzare la situazione. Che caos. Mi accorgo che c'è qualcosa che non va. Che non mi piace. Che non mi convince. Dove siamo finiti? Ti sento lontano. E mi manchi. Mi manchi da morire. Semplicemente mi sembra che stiamo vivendo la nostra vita di coppia in un modo un po' passivo. Ci facciamo trascinare dagli eventi. E la comunicazione c'è? Sì, ma solo in parte. E in modo superficiale. Mi piacerebbe riuscire ad avere una bella chiacchierata che riguardi semplicemente un argomento. Noi. Parlare dei nostri pregi, dei difetti, di quello che ci piace o no l'una dell'altra. Di come vorremmo che l'altro fosse. Di ciò che ti piace o ti dà fastidio. Di nostri sogni, ambizioni, aspettative. Non per rimproverarsi o rinfacciarsi qualcosa. Ma semplicemente per comunicare, per conoscere cose che probabilmente si sanno già. Ma che si sono dimenticate o che comunque è bello ed utile ribadire. A volte ho l'impressione che stiamo ricitando chissà che ruolo. Che non siamo del tutto sinceri con noi stessi. Forse per paura dei giudizi dell'altro. Ultimamente ho spesso paura del tuo giudizio. Temo le tue critiche e le tue battute. A volte non riesco ad essere me stessa come vorrei. Ho l'impressione di recitare un ruolo che non mi appartiene del tutto. Ma non so quale. Ho voglia di essere me stessa. Di essere apprezzata così per quella che sono. Pregi e difetti compresi. Sto attraversando un periodo strano. Sto cercando di ricrearmi un'identità. Di acquisire una sicurezza e un'indipendenza che forse non ho mai avuto. E so che nella mia vita ci sei tu. Perché voglio che ci sia tu. Quando Giulia parla di ricrearsi una nuova identità. Non intende mi crea una nuova identità per far contento Marco. Anzi tutt'altro. Questa lettera è scritta in un periodo di novità e cambiamenti per Giulia. Ha iniziato il suo tirocinio post laurea. Ed è chiamata a mettere in campo tutte le sue competenze e le sue attitudini. In situazioni pratiche e stimolanti. Che restituiscono alla sua impegno una buona dose di gratificazione e autostima. Giulia non si sente più la studentessa ossessionata dalla paura degli esami. E questa è la nuova identità che si vuole ricreare. Quella di una donna assicura dei propri mezzi. E indipendente anche dai propri condizionamenti emotivi. Questa nuova identità però è molto probabile non sia assolutamente gradita da Marco. Che vede cominciare a brillare di luce propria quell'opaco pianeta. Che fino ad allora gli era ruotato intorno. Per essere consolato nei momenti di sconforto preesame. Che gli chiedeva perfino consiglio per correggere le sue tesi e tesine. Che vedeva in lui la roccia. Di fronte alla fragilità delle sue insicurezze. Nel settembre dello stesso anno Marco le chiede di convolare a nozze. La ragazza è più felice che mai. Ha aspettato settembre? Perché devono andare in vacanza. E poco importa se Giulia a giugno gli ha dimostrato le sue insicurezze attraverso una lettera. Nella sua testa la proposta deve essere fatta in un luogo speciale. E Giulia può aspettare di certo. Giulia e Marco si sposano il 4 settembre del 2005. La generosità di Giulia e la fiducia totale con cui si affida disinteressatamente a Marco. È ben visibile anche nelle questioni di carattere economico. Giulia mette a disposizione del fidanzato una consistente somma. Ricevuta in dono dai genitori in vista del matrimonio. Utilizzata già all'inizio del 2005 per l'arredo della casa matrimoniale. E per sostenere interamente le spese del matrimonio. Che viene per l'appunto celebrato il 4 settembre del 2005. E opta per il regime di separazione dei beni. Non ci sono mai conflitti con Giulia per motivi economici. Lei si fida e lascia che sia lui a gestire i pagamenti. Gli investimenti. E prendere decisioni riguardo a questi importanti. L'oculatezza di Marco nelle spese permette loro di vivere bene e senza problemi. Giulia rivendica subito il diritto di mantenere e coltivare anche le amicizie non comuni alla coppia. Quindi colleghi universitari, colleghi di lavoro, ex compagni di scuola. Uscendo anche per proprio conto. Queste uscite separate fanno parte di un accordo che peraltro ha scandito Marco. Il venerdì è serata di uscite separate. Le serate del martedì e del giovedì vedono Marco impegnato negli allenamenti di pallavolo. E in occasione di partite fuori casa si può aggiungere anche la terza serata. Questo significa che è Marco a pretendere i suoi spazi. Concedendoli quindi di conseguenza a Giulia. Le serate del lunedì, mercoledì, sabato e domenica trascorrono normalmente per la coppia che o sta da sola oppure in compagna di amici. Mentre Giulia non ha problemi ad inserirsi nell'amicizia del marito, Marco si dimostra molto ostile a condividere quelle della moglie. Eppure Marco in pubblico è tutt'altro che un musone. Certo è riservato ma non se ne sta zitto in un angolo. Pare che la sua selettività privilegi gli ambienti in cui sa di poter affermare la sua superiorità narcisistica. Mentre rifiuta quelli in cui, anche inconsciamente, avverte una certa inferiorità culturale. Va però sottolineato che Giulia non ha mai fatto pesare differenze di questo tipo. Marco non aveva finito gli studi? Verissimo. Ma questo non era assolutamente un problema per Giulia. Dunque, come già vi ho detto, i primi anni di matrimonio vanno a gonfie vele. Giulia dice più volte di aver bisogno di un punto fermo, di un riferimento. E Marco, in tal senso, è proprio ciò che cerca. Forse Marco, con il suo modo di fare così quadrato, volto alla perfezione, le dà quella sicurezza che in realtà, probabilmente, in alcune circostanze le manca. Giulia venera Marco, lo ama con tutto il cuore. Arriviamo a luglio del 2006, quando Giulia viene per l'appunto assunta a tempo indeterminato in banca. A questo punto, chiede a Marco di mettere al mondo il primo figlio. E in effetti, anche lui è d'accordo. Rientra effettivamente negli elementi di perfezione da ostentare. In quanto percepisce le aspettative delle reciproche famiglie e degli amici, i quali, in gran parte, hanno già dei bambini. Ma, per Marco ancora non è il momento. Tanto che obbliga Giulia ad assumere la pilola anticoncezionale per tutto il 2007. Giulia obbidisce, ma a maggio del 2007, dopo aver avuto un rapporto, si ricorda di non aver preso preventivamente la pilola. Informa Marco che si irrita da morire e le impone di correre ai ripari. Ossia di rivolgersi alla guardia medica dell'ospedale per farsi somministrare la pilola del giorno dopo. Giulia si sente in colpa, si sente sbagliata, si confida con sua sorella Elena. Le dice, beh, se lui non vuole avere un figlio con me, evidentemente, pensa che io non sia una buona madre. Marco, dal canto suo, dice che non è il momento di mettere al mondo un figlio, perché si devono ancora prendere i loro sfizi. C'è in programma un viaggio in America, previsto per il mese successivo, per cui, peraltro, è già stato pagato l'aereo. Quel viaggio non può certo essere a rischio per una gravidanza da lui indesiderata. A fine 2007, Marco dice a Giulia che è giunto il momento. Secondo lui, quello è il momento opportuno. Ma suo marito tiene ancora le retini dell'esuberanza di Giulia, imponendone di prendere la pillola, fino al momento che lui ha deciso debba fare da sfondo al concepimento. Ossia, la settimana di vacanza alle Mauritius, programmata per il febbraio del 2008. Questa vacanza per Giulia, ahimè, non va come dovrebbe. E non per colpa sua, poverina. Contrae un virus gastrointestinale, quindi l'idea di procreare lì diventa praticamente impossibile. Dunque Giulia non rimane incinta, ma se ci riflettiamo, sarebbe stato incredibile il contrario. Calcolando che l'assunzione dell'anticoncezionale era stata interrotta da poco, circa un paio di mesi. Arriviamo a questo punto all'estate del 2008, quando la relazione inizia seriamente a peggiorare. Perché quel figlio tanto desiderato non arriva e quindi Marco prende una decisione drastica. Giulia è ottimista, non si scoraggia, insiste, vuole avere un bambino. Ma Marco cambia idea. Marco, che programma tutto alla perfezione, con quell'imprevisto subisce un forte scossone. No, forse un figlio non lo vuole più. Inoltre Marco inizia a non sopportare più i rapporti con la moglie e sembrano forzati, così smette di avere rapporti con Giulia. La coppia a questo punto va davvero in crisi e pare che il matrimonio si avvii verso la chiusura. Giulia vive male la non possibilità di diventare mamma. Giulia piange, piange. Non riesce a smettere di piangere. Giulia non ce la fa più. Ogni volta che parla con Marco è sempre peggio. A questo punto, per lui, il desiderio della moglie di avere un bambino gli sembra solo un'ossessione. E Giulia sta sempre più male perché per lei quella non è mica un'ossessione, bensì è il sogno della sua vita. Adora i bambini, ha sempre voluto aver figli. Infatti Giulia e Marco si sono sposati con l'idea di mettere su famiglia. E quindi Giulia si chiede, e adesso? Dove sono finiti i nostri progetti per il futuro? Dove sono finiti i nostri sogni? Inoltre c'è un ulteriore fattore che fa star male Giulia. Marco non la calcola più. Pare sia diventata invisibile ai suoi occhi. La crisi diventa tale che spesso dormono separati. E per Giulia questa situazione è un grandissimo tormento. La crisi inizia a farsi evidente anche per gli altri verso la fine dell'estate del 2008. È ottobre. E nella squadra di pallavolo di Marco si aggiunge una ragazza. Tra Marco e la nuova arrivata presto nasce una relazione. Verso dicembre la loro relazione si stringe ancora di più. Quindi ecco che iniziano ad avvenire degli incontri intimi tra i due. E Marco, ahimè, per un paio di volte, facilecca. Non siamo qui per prenderci gioco di Marco, chiaramente. Il punto è che questo fatto accadeva anche con sua moglie quando avevano dei rapporti. Marco dice continuamente a Giulia che non riesce più a combinare nulla perché a detta sua è in ansia. Insomma non riesce più ad avere rapporti perché ora l'eventualità di una gravidanza lo terrorizza. Da qui ecco che si avvia un processo di allontanamento che pare irreversibile. Si palesa quindi la decisione di Marco di sospendere qualsiasi rapporto con la moglie. La sua crescente freddezza, il suo distacco sentimentale, il suo distacco fisico esiste nell'ottica della nuova relazione. A quanto dice lui però quella relazione non lo gratifica, anzi lo fa sentire in colpa. Peccato che il senso di colpa Marco se lo infili nel di dietro. Perché continua ad avere rapporti con la sua nuova fiamma. Che peraltro incontra sempre più spesso. Inoltre questa donna soprannominata da Marco Volpe perde il lavoro già a dicembre. Fatica a mantenersi e rischia di dover tornare al suo paese d'origine che sta al sud. Così Marco si attiva tra amici e conoscenti per trovare un nuovo impiego per la ragazza. Che ritiene molto sveglia e preparata oltre che un fenomeno della pallavolo. Giulia, rilegata dal marito al ruolo di colfe più che di moglie, non comprende il suo repentino cambiamento. A questo punto Giulia si palesano davanti due opzioni. O va fuori di testa per capire cosa passa nella zucca di suo marito. Oppure cerca di tutelare il suo equilibrio psicologico. Facendo vita sociale anziché rinchiudersi nell'isolamento di quella casa in cui si sente sempre più sola. Le uscite separate come già vi ho detto in questo video non sono una novità. Ma ora sono diventate una necessità. Giulia o esce da sola o sta a casa da sola. Non ha molte opportunità. E quindi forse è meglio uscire. Contemporaneamente nell'ottobre del 2008 Giulia incontra in un locale un amico di vecchia data. Che, come lei, è fuori per trascorrere la serata con degli amici. Parlano quindi delle loro situazioni lavorative, del più e del meno. E alla fine di quella serata si scambiano il numero di telefono. E Giulia contattarlo un paio di settimane dopo per combinare una serata tra amici. Che tuttavia non va in porto. Si trovano però un paio di giorni dopo e mangiano insieme durante la pausa pranzo. Si instaura così un'amicizia più assidua tra i due. Fatta di chiamate, qualche incontro per aperitivi e pranzi nella pausa lavorativa. Poi, in seguito, si aggiungono delle uscite serali, il venerdì, sempre in compagna di amici e amiche. Verso metà novembre l'amicizia tra i due diventa più confidenziale. I due continuano ad uscire con gli amici, certo, ma talvolta escono anche insieme. Da soli. Giulia, peraltro, con questo uomo non ha alcun rapporto. Perché tra di loro si è instaurata un'amicizia sincera. E Giulia non ha bisogno di un amante, ma di un confidente. Ha bisogno di qualcuno che l'ascolti. E quell'uomo lo fa. L'ascolta. Prova a consolarla. Prova a proporle qualche consiglio per migliorare la situazione. Giulia evita di confidarsi con amici e amiche della compagnia storica che condivide con Marco. Proprio per una forma di rispetto e delicatezza nei confronti del marito. Per tutelare la loro intimità e non mettere in cattiva luce Marco. Quell'uomo che ha sposato e che ma il grado tutto continua ad amare e a proteggere. Dai primi di gennaio la crisi tra Marco e Giulia si acuisce. E Marco a questo punto le dice chiaro e tondo che di figli non ne vuol sapere. Anzi, è contento che non sia rimasta incinta. La tensione sale ancora di più nei giorni successivi quando Giulia va a fare il tifo per Marco durante una partita di pallavolo. Il punto è che Marco neanche la vede o meglio la ignora deliberatamente. All'inizio del 2009 Marco scrive questa mail a Giulia. Ciao piccola, io so che magari non hai voglia e soprattutto tempo per leggere la mia mail. Ma magari in pausa pranzo riesci. Come ho fatto anche in passato, faccio fatica ad esprimere i miei pensieri e i miei sentimenti a parole. Cercando di metterli per iscritto, aiuta a focalizzare argomenti anche per avere una base da cui partire stasera per una eventuale discussione. Stasera dobbiamo proprio parlare. La situazione non è sostenibile in questo modo. Sabato hai detto bene, noi abbiamo già parlato di queste cose, ma sostanzialmente non abbiamo risolto nulla, nel senso che siamo in una situazione di stallo. So che ti fa molto male, ma ti prego di credermi che non fa stare bene neanche me. Ci sono molte cose che non so, ma di una cosa sono convinto e purtroppo è quella che ti farà più male. Credo fermamente che cercare un figlio in questo momento sia un errore e lo dico per svariati motivi. Un figlio è un evento che mette a dura prova la coppia e tende a dividerla e noi, o solo io se preferisci, non siamo nelle condizioni di poterlo sopportare. Non c'è un rapporto sereno, felice e coeso che ci permette di affrontare la gravidanza. Il figlio non può essere la soluzione ai problemi di una coppia. Il mondo è pieno di coppie in crisi che, nel figlio, cercavano quel qualcosa che tornasse per unirli in maniera forte. Non devo dirti io come finiscono la maggior parte di queste coppie. Finiscono per non essere felici, per stare insieme solo perché c'è un bimbo e, nella maggior parte dei casi, si dividono dopo qualche anno con il bimbo che prende le batoste più grosse. Se il figlio arriva in una coppia felice, è un evento meraviglioso, faticoso ed impegnativo, ma è il giusto completamento della vita di un uomo, la massima realizzazione. Se arriva da una coppia non felice o poco sicura, però ha buone possibilità di essere un bambino infelice, a sua volta, perché crescerebbe in un ambiente poco sereno e, purtroppo, lo dico col cuore, piuttosto che mettere al mondo un figlio potenzialmente infelice a sua volta, preferisco stare male io per tutta la vita. Mi dispiace veramente di averti trascinata in questo baratro con me, ma finché non saremo tornati una coppia serena, felice di stare insieme tra noi, non posso cercare un figlio. Ora si pongono due problemi. Il primo è se tu sei disposto a stare con me, abbandonando per ora la ricerca del figlio e, detta così, è solo una frase, ma so che per te è difficile prendere anche solo in considerazione queste ipotesi. Il secondo è un problema pratico, di cui abbiamo avuto un esempio lampante mercoledì scorso. È palese che voglio stare con te, ed è scontato che per poter tornare ad avere feeling e complicità, tra noi la strada passa inevitabilmente per l'intimità. Ma questo è un problema, visto all'ottica della premessa iniziale. Questo problema mi mette in ansia e non riesco a cercarti serenamente. Finché non usciamo da questo scoglio su cui ci siamo arenati in posizioni differenti, difficilmente andremo da qualche parte. Mi dispiace davvero, adesso devo tornare a lavorare, ci vediamo stasera, bacio, tvb, tra parentesi, davvero, Marco. Giulia risponde a Marco con quest'altra mail. Allora, innanzitutto grazie per l'email, non me l'aspettavo e mi ha fatto piacere. Almeno perché mi fa capire che a qualcosa stai pensando. Delle preoccupazioni le abbiamo già parlato e le ho capite, anche se, come ben dici, abbiamo idee diverse sulla questione più importante. Come sempre, anche stasera sono disposta a parlare, ma gradirei non ripetere le solite cose. Anche perché, come già è successo, non portano a nulla. Ho capito che per ora non vuoi un figlio, ma ti chiedo, vuoi me? E non intendo per ora. E se mi vuoi, bisogna che ti dia da fare per farmelo capire. L'apatia che ho avuto in questi giorni mi sta massacrando. Non faccio altro che piangere e mi sto allontanando da te. Sappiamo benissimo cosa non vuoi. Io so cosa voglio. E non parlo solo del figlio, ma devi capire cosa vuoi tu. Ed esserne anche convinto. Io lotto se tu vuoi lottare, ma per adesso non mi sei sembrato disposto a farlo. E questo mi sta allontanando da te. Tu sei in crisi, tu hai un problema e tu devi capire se vuoi risolverlo o no. E poi devi attivarti per farlo. Io ti posso aiutare, ma non posso lavorare da sola per entrambi. Pensaci bene. Avrei mille cose da dire, ma l'email non è il modo migliore. Quindi ti saluto e ci diamo appuntamento stasera. Quello che Giulia stava chiaramente ponendo a quell'uomo in crisi è un out-out. Ossia un'alternativa da cui è impossibile sfuggire. C'è da sottolineare che nella coppia è lui quella in crisi. È lui che ha un problema. E malgrado lei sia disponibile per risolvere il momento difficile, capisce che non c'è alcuna volontà da parte del partner. Lo sente apatico, indifferente dunque al suo dolore. Pure ben visibile che ormai è oltre i limiti della sopportazione. Arriva il 24 gennaio quando Marco le propone di nuovo di chiarire la situazione. Ma non si giunge ad alcun chiarimento se non alla ripetizione di alcuni punti fermi. Marco ormai non la ama più e non vuole dei figli. Nasconde però le sue vere intenzioni aggiungendo una frase che a Giulia non fa perdere la speranza. Ossia dice che per il momento non vuole figli. Questo significa che per il momento non la ama ma che sicuramente tornerà ad amarla? Nel corso della discussione col marito Giulia tocca il tema della separazione e glielo chiede proprio espressamente. Vuoi la separazione? Marco risponde no, non al momento. Giulia finalmente raccoglie baracca e burattini e torna dai suoi genitori. Uscendo di casa dice a Marco sappi che se esco da quella porta non torno più. Di tutta risposta Marco non fa né dice nulla per fermarla. Anzi dichiara che quella notte per la prima volta ha dormito così tanto tranquillo. L'unica conseguenza del gesto di Giulia è che i suoi familiari vengono messi al corrente della situazione. Considerando che la donna rientra in casa in lacrime dicendo Marco non mi vuole più. La famiglia di Giulia è all'oscuro di tutto e quindi Giulia inizia a parlare. È un fiume in piena. Finalmente si sfoga ed è così che i suoi cari vengono a sapere cosa stia passando Giulia. Quanto stia soffrendo e cosa desideri come priorità assoluta. Un matrimonio normale proiettato nell'ottica di famiglia a tutti gli effetti. Giulia non vuole un figlio. Vuole un figlio da Marco, suo marito che però la sta rifiutando, la sta mortificando. Sta calpestando i suoi sentimenti più profondi. Giulia però è troppo innamorata e sebbene sia meglio porre fine a quella relazione il giorno dopo torna da lui che l'accoglie con un abbraccio come se nulla fosse successo. Passano la giornata insieme in grande intimità senza però affrontare il tema centrale della loro crisi. Giulia è desiderosa di ricomporre un'atmosfera distesa e serena utile a superare i problemi quindi si impone di pazientare di essere più carina e affettuosa possibile. Aspettando che il marito fatta chiarezza nei propri sentimenti finalmente riesca ad aprirsi e ad affrontare la situazione con lealtà. Quelli sono giorni tranquilli non tormentati da discussioni o provocazioni verbali però è anche vero che la situazione rimane immobile e Giulia giorno dopo giorno avverte l'indifferenza cinica di suo marito che continua con apparente normalità ad ignorarla e a perseguire il suo obiettivo niente figli. Riprendono ad avere qualche rapporto che Marco però interrompe per non rischiare di nuovo gravidanze indesiderate. e a questo punto non sente neanche il bisogno di giustificare il suo comportamento. Da un momento all'altro quindi le cose tornano ad essere come prima e Giulia si sente triste è amareggiata è delusa non lo riconosce più il Marco che ha sposato lo sente sempre più gelido sempre più lontano privo di sentimenti. Arriva l'11 febbraio del 2009 nelle settimane precedenti Giulia ha raccontato ai suoi parenti che le cose tra lei e Marco vanno molto male. Quella sera dopo essere rientrata dal lavoro Giulia manda un messaggio a Marco per chiedergli se per caso vuole cenare in casa o fuori casa in quanto si erano dati appuntamento insomma dovevano vedersi per cenare e i due non si incrociavano e non si sentivano da ben tre giorni. Marco però anche in questo caso non risponde a Giulia e quindi la ragazza dopo una decina di minuti chiama sua sorella Elena e dice che sta attendendo una risposta da Marco dovevano cenare assieme ma teme che le dia buca di nuovo per l'ennesima volta. Proprio mentre Giulia ha il telefono con Elena arriva il suo cellulare la risposta di Marco sono le 20. Marco le ricorda che quella sera ha in programma un allenamento di pallavolo chiede dunque a Giulia di raggiungerlo a casa dei suoi genitori che non è poi così distante da casa loro. Marco però dice a Giulia che è lì perché sta sistemando la legna inoltre ha una sorpresa per lei. Giulia a questo punto richiama Elena ed è felicissima. Marco le ha risposto vuole mangiare fuori e le ha chiesto di passare a casa dei suoi genitori i quali non sono in casa perché deve farle vedere qualcosa. Giulia pensa immediatamente al regalo di Natale mai ricevuto. Quella forse è una sorpresa per lei? È ciò che spera. Spera di ricevere proprio una bella sorpresa. Sono le 23.15 dell'11 febbraio 2009 quando a casa dei genitori di Giulia quindi a casa Galiotto squilla il telefono. Dall'altro capo del telefono c'è Marco il loro genero che chiede di Giulia è per caso lì con loro? I genitori di Giulia sono straniti perché Marco è così preoccupato? Sanno che Giulia a volte esce la sera e spesso rincasa anche verso mezzanotte e mezza. Marco però insiste dice ai genitori di Giulia che si sono sentiti verso le 20 e hanno litigato. Lui è appena rientrato a casa e ha trovato peraltro un bigliettino alquanto strano lasciato dalla moglie la quale non risponde ai messaggi. Marco non è tranquillo quindi dice ai genitori di Giulia forse è il caso che veniate qui. È così che i genitori di Giulia si vestono in fretta e furia per raggiungere Marco a San Michele dei Mucchietti nella casa matrimoniale le ciabatte di Giulia sono lì abbandonate frettolosamente vicino all'entrata. Marco si dimostra preoccupato e fa vedere ai suoceri il biglietto che ha trovato. Quel biglietto che Giulia aveva scritto anni prima anche prima del matrimonio quel biglietto che recita non sono stata sincera non ho motivo di esistere. Giovanna la madre di Giulia però legge quel biglietto e nota che c'è proprio qualcosa che non va. Dice a Marco ma questo biglietto non ha senso perché noi sappiamo quali sono i vostri problemi. Giulia verso di te non ha mai avuto nessun senso di colpa almeno nell'ultimo periodo casomai sei tu che stai rovinando tutto. Marco a questo punto si ammutolisce lì per lì non sa cosa rispondere poi però si riprende e sottolinea che secondo lui Giulia si è fatta del male. Quel biglietto ne è la prova. I genitori di Giulia dunque leggono quello strano biglietto e non si fidano molto ma sono ugualmente spaventati. Giulia non si trova ed è così che iniziano a cercarla per San Michele dei Mucchietti e Sassuolo. Marco invece così tanto preoccupato e sconvolto da rimanere a casa. Come vi ho detto si dimostra preoccupato ci prova ma in realtà non lo è affatto. Benché sia passata la mezzanotte e loro figlia si è scomparsa da poche ore i genitori di Giulia esprimono la loro angoscia ai carabinieri di Pigneto di Pignano che fortunatamente li fermano per un normale controllo verso l'una di notte. I genitori di Giulia dicono alle autorità che potrebbe essersi suicidata così come prova quel biglietto di addio. È così che partono le ricerche e con l'aiuto di altre pattuglie vanno verso il fiume Secchia. I genitori di Giulia dopo averla cercata un po' ovunque tornano a casa nella speranza che la situazione si risolva. Alle tre di notte sentono il rumore di un'auto che entra nel cortile. Quel rumore li fa balzare fuori dal letto. Sì, quella è Giulia. Sta finalmente rientrando a casa. Questo vuol dire che è tornata da loro. Quella speranza crolla ben presto quando sentono il campanello di casa suonare. Giulia le chiavi le ha. E perché dovrebbe suonare il campanello peraltro in piena notte? I genitori di Giulia si precipitano alla porta. La aprono. Escono di casa. Ed ecco che vedono il loro incubo diventare realtà. C'è il lampeggiante della macchina dei carabinieri. L'avete trovata? Chiedono i genitori di Giulia. La risposta che arriva gli fa gelare il sangue nelle vene. Purtroppo vostra figlia ha deciso di farla finita. Si è buttata nel secchia e si è sfraccellata sulle rocce. I genitori di Giulia non riescono a crederci. La loro amata figlia non c'è più. Vengono quindi accompagnati in caserma Sassuolo. Ed è a questo punto che i genitori raccontano i motivi della crisi matrimoniale appresi dalla stessa Giulia. Motivi che ruotano attorno al rifiuto di Marco a proseguire nella ricerca del primo figlio intrapresa di comune accordo circa un anno prima. I carabinieri dopo aver appreso queste informazioni lasciano andare a casa i genitori di Giulia. Verso le 19.30 occorre trovare la forza per informare Elena la figlia maggiore. Giulia non c'è più. Si è suicidata buttandosi nel secchio. Elena qui dà un punto di svolta perché risponde ma come? Dovevo uscire con Marco. La mamma di Giulia Giovanna continua dicendo no lui ha detto che hanno litigato per telefono e che è rientrato solo alle 11.00 Giulia non c'era ma aveva lasciato un biglietto. Elena insiste no no qui c'è qualcosa che non torna io ne sono sicura lei doveva vedersi con Marco lui ieri sera le ha telefonato verso le 8.00 e le ha detto che sarebbero usciti a cena la stava aspettando già dai suoi che non erano in casa perché aveva una cosa da farle vedere lei era contenta sperava che fosse il regalo di Natale che lui ancora non le aveva fatto. Arrivano le 21.00 ed Elena racconta a tutti i carabinieri la sera precedente rimane al telefono con sua sorella per circa mezz'ora poi Marco chiama Giulia sul cellulare lei interrompe la comunicazione con sua sorella per poi richiamarla e ripeterle il contenuto della chiamata a quel marito è contenta e ha fretta di correre da lui tant'è che la seconda chiamata che le due sorelle hanno è brevissima il maresciallo che raccoglie questa testimonianza esclama immediatamente la tirata fuori da casa avrebbe fatto la parte del bedovo commiserato da tutti Elena inoltre messa davanti al piglietto che avrebbe dovuto documentare il suicidio della sorella capisce immediatamente dal suo aspetto e dal contenuto che non può essere stato scritto la sera precedente c'è da dire però che questo l'avevano intuito anche i carabinieri in quanto le prime luci dell'alba hanno permesso di rilevare sul greto del fiume vicino al luogo del ritrovamento del cadavere delle macchie di sangue e un orecchino mancante della vittima anche nell'auto di Giulia parcheggiata non troppo lontana risultano delle tracce ematiche inoltre non mancano tracce neanche nel garage dei genitori di Marco ma in effetti la testimonianza di Elena che aggiunge un elemento fondamentale ossia da precise indicazioni sull'ora e sul luogo del delitto ossia la casa dei genitori di Marco sicuramente dopo le 20 dunque è ora di fare un balzo indietro è ora di raccontarvi come sono andati i fatti in quella tragica notte Giulia arriva nel garage dei genitori di Marco piena di speranze illudendosi di poter recuperare il rapporto con suo marito che però ha tutt'altra intenzione Marco rinfaccia a Giulia di essere a conoscenza dei suoi tanti tradimenti tradimenti che peraltro neanche esistono ma non è finita qui perché gli dice che anche lui a questo punto ha un'altra donna ha un amante però un amante fissa Giulia come al solito gli propone di riprovare ma Marco non è d'accordo la spinge la butta a terra poi afferra un sesso abbastanza grosso e inizia a colpirla ripetutamente alla testa è così che il sorriso di Giulia si spegne si spengono le sue speranze il suo sogno di avere un figlio si spegne Giulia quella ragazza così radiosa e solare di colpo non brilla più la rabbia di Marco a quanto pare è covata per mesi e esplosa tutta insieme o forse era tutto già prestabilito Marco avendo un amante non può far più di tanto la morale a Giulia che è vero esce ma non esce per cercarsi l'amante esce perché non sa che fare a casa esce perché altrimenti si deprime esce perché ha bisogno di stare a contatto con delle persone sane ma c'è di più Marco non vuole essere considerato la causa del fallimento del loro matrimonio sia mai e infatti è da mesi che attende speranzoso e in che cosa spera Marco? beh spera sia Giulia a lasciarlo cosa che è in me la donna non fa per fermare il sangue che esce dalla testa di Giulia Marco avvolge il capo in un sacco nero di plastica poi prima di sbarazzarsi del cadavere si va a dare una sciacquata quindi si lava e si cambia pure gli abiti quindi una domanda sorge spontanea ma quei vestiti li ha trovati già lì oppure se li ha portati da casa prima Marco dice di averli trovati già lì quella notte Marco non deve perdere tempo ha un obiettivo simulare il suicidio di Giulia e per farlo deve spostare il corpo e portarlo da un'altra parte così prende il corpo di Giulia lo mette nel bagagliaio della macchina di sua moglie chiude il garage dei suoi genitori prende la sua macchina torna a casa mala la macchina a casa e poi torna a piedi al garage dei suoi genitori una volta lì vede il garage e capisce che per prima cosa deve pulire perché c'è sangue dappertutto quindi pulisce bene poi racchiude in dei sacchi tutti gli indumenti sporchi di sangue insomma cerca di non lasciare nessuna traccia sale dunque nella macchina di Giulia e parte verso il fiume secchia decide di buttare il corpo di Giulia nel fiume facendo credere a tutti che si sia lanciata da sola Marco dunque la prende in braccio e al buio solo illuminato dai fari della sua auto si incammina verso l'acqua ma ahimè più di una volta inciampa e cade lasciando delle tracce che poi in effetti verranno rilevate dai carabinieri Marco quindi lancia il corpo di Giulia in acqua e in acqua lancia anche l'arma del delitto ossia la roccia la pietra con cui ha colpito Giulia poi torna all'automobile e si rende conto che di nuovo è un po' sporco di sangue quindi prova a pulirsi sale nuovamente in macchina e per strada in diversi cassonetti si libera di tutti gli oggetti sporchi di sangue che ha precedentemente prelevato dal garage poi si dirige all'autolavaggio Antonicelli che ha una videocamera di sorveglianza quella videocamera di sorveglianza riprende proprio Marco pulisce quell'auto da cima a fondo rimane lì dalle 21.32 alle 22.10 il che permette agli incoerenti di circoscrivere ulteriormente la fase centrale del delitto e dell'occultamento di cadavere tra le 20.07 quando Giulia termina la chiamata con sua sorella Elena e le 21.32 quando Marco inizia il lavaggio dell'automobile è necessario che l'auto sia pulita per dimostrare che Giulia non solo si è recata al fiume da sola ma ha guidato da sola la sua macchina Marco risale dunque in auto torna al gretto del fiume secchia vicino al punto in cui ha buttato in acqua Giulia abbandona così l'auto di sua moglie lasciando in macchina la sua borsa e le chiavi infilate nel quadro d'accensione infine ritorna a piedi verso casa sono ormai le 11 circa quando prova a costruirsi un alibi mandando più messaggi al cellulare di Giulia scrivendo le cose del tipo mi dispiace ma ti prego non fare cazzate non me lo perdonerei mai tenta dunque di giustificare il fatto che Giulia possa aver avuto intenzione di suicidarsi Marco quella sera chiama i genitori di Giulia per chiedergli se è da loro il resto ormai lo sappiamo è il pomeriggio del 12 febbraio 2009 gli inquirenti hanno già individuato l'autore del crimine dell'omicidio e Marco Manzini lo arrestano lo portano al comando dei carabinieri ma l'uomo inizialmente peccato che arrivi come un fulmina c'è il sereno la testimonianza di Elena che fa crollare tutto il suo piano messo alle strette Marco confessa le prove contro di lui sono schiaccianti Marco da una piena confessione è vero ha ucciso sua moglie ma per un raptus di gelosia quindi questo è un omicidio di impeto a me pare tutto fuorché è un omicidio di impeto anzi questo omicidio a me sembra studiato premeditato perché Marco ha invitato Giulia a casa dei suoi genitori dice di aver trovato lì nel garage l'arma del delitto sia una grossa pietra inoltre dice di aver utilizzato dei sacchi della spazzatura di marca Hera suo padre sentito il 13 febbraio dichiara che in garage non ci sono mai stati sassi pietre o cose del genere aggiunge che lui effettivamente in garage li tiene dei sacchi neri che però sono marchiati sat non Hera inoltre suo padre sottolinea che non ha mai tenuto ricambi d'abito nel garage questo fa pensare che sia il sasso che i sacchi neri ma soprattutto il cambio di vestito siano stati portati da Marco nel garage perché funzionali a suo terribile scopo inoltre dopo un omicidio di impeto è ben difficile a seguito dell'azione omicidiaria riprendere lucidità e mettere in atto tutte le azioni calcolate al millimetro da Marco eppure l'ipotesi del raptus di gelosia e dell'omicidio di impeto arriva in sede processuale voglio essere onesta con voi per tutto il processo a rito abbreviato la linea tenuta dalla difesa si muove più o meno su un doppio binario prima rimarcano fino alla nausea che c'è un vizio parziale di mente in Marco malgrado la perizia psichiatrica l'abbia categoricamente escluso poi iniziano a invalidare le testimonianze rese dai familiari di Giulia con insinuazioni meschine sulla scherza sincerità della vittima e la mancanza di confidenza con i familiari poi ecco che arriva la mortificazione offensiva della personalità e dei comportamenti della vittima arriva poi anche la mancanza di ritegno al punto di svilire la figura del padre dell'imputato al fine di invalidare le dichiarazioni contrarie all'interesse del figlio questo è un atteggiamento così spreggevole da suscitare sdegno e vergogna nella parte civile Marco così moralmente ineccepibile che a detta del suo consulente di psichiatria forense si è sentito schiacciare sotto il peso della vergogna nella prospettiva di una normale separazione dalla moglie ebbene mi spiace ma questo uomo Marco non dimostra di avere molta dimistichezza con questo sentimento con la vergogna Marco provava vergogna nel chiedere il divorzio a sua moglie ma non mi pare che provi vergogna per averla ammazzata e neanche per averla tradita con l'amante casomai è lei che l'ha sempre tradito e lui l'ha sempre perdonata non so voi io questa storia la ricordavo diversa ma in aula di tribunale tutto si trasforma a quanto pare allo stesso modo non compare alcun sentimento di vergogna nel calpestare spudoratamente la dignità del padre permettendo che i suoi difensori lo dipingano pubblicamente come un povero uomo tanto confuso e inaffidabile quindi a questo punto ho una domanda quanto sono stati vergognosi gli avvocati della difesa eppure loro sembrano immuni della vergogna no no loro sono nel giusto la vita di Giulia e Marco viene studiata e tra tabulati telefonici computer mail sms viene fuori un quadro molto chiaro della situazione Marco rifiutava sua moglie quindi raptus di gelosia dove come e quando beh qui onestamente arriva la parte che a me ha fatto rabbrividire di più perché per tutto il processo cercano di dipingere la vittima come una traditrice seriale come una che ce ne aveva uno dovunque andasse una donna insomma non fedele al fine chiaramente di rendere credibile il raptus di gelosia la procura pare andare dietro a questa tesi tanto che vengono interrogate anche le colleghe di Giulia quali erano le amicizie che la donna coltivava specialmente maschili in effetti le colleghe di Giulia dicono che la donna nell'ultimo mese usciva spesso con un uomo un suo vecchio amico andavano a pranzo a fare qualche aperitivo quindi c'è un fondo di verità? no quell'uomo alla fine si rivela essere solo un amico di Giulia la donna ha tradito Marco una sola volta e l'ha anche ammesso gli ha scritto quel biglietto Marco l'ha perdonata e ha anche scelto di sposarla Marco Manzini viene condannato a 19 anni per omicidio di primo grado aggravato dalla relazione di coniugio sentenza confermata in secondo grado e in cassazione questa è una sentenza che la famiglia Gagliotto rifiuta assolutamente e devo ammetterlo anche io leggendo questa sentenza ci sono arrivato un po' male onestamente speravo in una pena più severa ho preso molto a cuore questa storia perché anche qui si parla di violenza ma non ci sono dei libidi visibili ed evidenti perché questa si chiama violenza psicologica molti o molte potranno scrivere nei commenti perché non se ne è andata prima e non l'ha mollato io mai starei con un uomo del genere ragazze donne mie ascoltatemi bene uomini del genere prima ti danno un bacetto e poi una bastonata chiaramente a livello morale e non pratico riescono a manipolare le donne che hanno accanto a loro tanto che alla fine rimangono intrappolate in quella relazione che seppur non lascia lividi o segni lascia davvero tanti traumi tanti detto questo io ho finito di parlare in questo video spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento fatemi sapere se conoscevate questo caso cosa ne pensate soprattutto di questo caso nel frattempo io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene o almeno prendetevi cura di voi fate ciò che vi fa stare bene ciao ragazzi ciao ragazze ciao